Per chiedere che si inverta totalmente le politiche che il Governo nazionale ma anche la Regione Calabria hanno in mente, hanno costruito in questi anni su questo settore, che è un settore che va ribaltato, messo sotto sopra perché basta guardare i dati regionali e nazionali, abbiamo un settore nel quale l'illegalità, lo dicono gli organismi di controllo, gli ispettorati, le task force della Guardia di Finanza, quelle che ci sono state in questi anni, ha un tasso di sfruttamento altissimo, un tasso di illegalità che sfiora all'80% e nel settore c'è un'applicazione esagerata e capillare di contratti pirata che non danno diritti alle persone e non permettono a chi lavora di poter portare il pane a casa dignitosamente e quindi va invertito, va ribaltato il tema del turismo e noi siamo qui per questo perché nonostante anni e anni di appelli alla Regione Calabria, alle varie giunte rispetto a questo settore, non siamo riusciti a, e non solo noi devo dire, perché la cosa riguarda il mondo della rappresentanza datoriale, piuttosto che i distretti che sono stati costruiti, non si riesce a dialogare, a costruire delle politiche condivise con la Regione perché sembra che questo settore sia a totale disposizione, esclusivo della politica. Noi riteniamo invece che chi lavora debba avere voce e quindi parlare dei problemi di chi in questo settore non riesce a lavorare in maniera dignitosa e non riesce ad essere rispettato ci sembra un modo per contribuire a migliorare la nostra terra. Proposte ne abbiamo tante, noi siamo stati in Regione Calabria, al Consiglio regionale, nel momento in cui si applicava il piano strategico del turismo, abbiamo portato diverse proposte anche tecniche, l'atteggiamento del Presidente, a partire dal Presidente, è stato quello di un certo distacco e di un certo fastidio, devo dire, rispetto alla nostra presenza in Aula. Alcune ce le abbiamo, nel senso che nel piano strategico del turismo si dice che va costruito il testo unico sul turismo e noi siamo molto d'accordo, a partire dal fatto che però quel testo va costruito con le parti, con le rappresentanze e non semplicemente come un atto burocratico. Ci sono delle questioni che vanno migliorate, vanno strutturate, come la formazione, la qualificazione del personale che invece viene lasciato così alla mercè del mercato senza una politica strategica. Ci sono delle cose che vanno rafforzate, come il patto che abbiamo fatto con l'assessorato al lavoro che prevede alcune incentive alle imprese che però applicano i contratti nazionali di lavoro, quindi quelli non irregolari e che assumono in maniera regolare. Ecco, quelle sono delle cose che possono servire, però complessivamente il settore del turismo ha bisogno di strategie e anche di politiche differenti, perché la dico così, se io intanto faccio occupare la Calabria alle multinazionali, devasto il territorio, è difficile poi ricostruire il fatto che questa terra è bellissima e qualcuno la deve visitare. Ma diciamo pagateli, diciamo banalmente rispettate il mondo del lavoro e rispettate le lavoratrici e i lavoratori, intanto. Poi è vero che ci sono dei problemi, ci sono dei problemi perché appunto la qualificazione professionale è uno di quei temi di questo settore, però c'è anche un problema culturale. Dire per esempio che era colpa del reddito di cittadinanza significa pensare, immaginare che nel turismo ci possa lavorare chiunque a prescindere, nel senso non c'è bisogno di qualificazione, non c'è bisogno di presentare la propria azienda e la propria offerta turistica in una maniera diciamo decente e adeguata. Ecco, intanto c'è da qualificare sia i lavoratori che anche le imprese che non possono pensare appunto di scaricare, soprattutto quando si lavora in concessione pubblica, i rischi del settore in generale sulla cittadinanza e sulle altre e lanciare la palla altrove appunto. Insomma, bisogna che chi si lamenta appunto che non trova operatori e che non trova lavoratori e lavoratrici vada da chi il lavoratore lo rappresenta e dica mettiamoci insieme e vediamo come risolvere il problema. Assolutamente sì, siamo in mobilitazione dentro quel percorso di mobilitazione della CGL nazionale. Oggi è una tappa importante perché diamo il via anche ad alcune serie di assemblee o meglio rilanciamo una serie di assemblee con le lavoratrici e i lavoratori. Siamo dentro quella tappa perché noi siamo quel settore che vede in questo momento il lavoro più precario e più povero nei vari settori che rappresentiamo, il commercio, il turismo, i servizi, gli appalti, che vede appunto una condizione di povertà nonostante i si lavori, che vede una precarietà diffusa e soprattutto 7 milioni di lavoratori e di lavoratrici aspettano il rinnovo dei contratti nazionali, 15 contratti nazionali che sono scaduti e sui quali non c'è volontà appunto di rinnovare. Quindi siamo dentro quella mobilitazione da protagonista e saremo presenti a Roma assolutamente.